Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio per la variante di Valico. In A11 fare attenzione per un veicolo in avaria segnalato a Lucca in entrambe le direzioni. Controllo della velocità attivo tra Lucca e Capandori in direzione Firenze. Sulla FIPILI segnalato personale su strada allo svincolo di Empoli Est. Sulla statale 1 Aurelia, tratto chiuso per lavori tra Stagno e la variante di Quercianella in direzione Roma fino al 30 aprile, chiuso lo svincolo di Levorno Centro. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per una frana tra Popiglio e la Lima. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!